Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e qui davanti a voi potete vedere la nuova interessante cover di HTC che lega l'HTC One M8 alla Sense 6 come potete vedere si può sbloccare con un doppio tap sullo schermo in questo momento ok, eccoci qua e come potete vedere dà delle informazioni direttamente a video tra cui l'ora, il meteo e altre informazioni la cover è magnetica, quindi se è aperta si sbloccherà direttamente il dispositivo come vi mostriamo adesso ok, potete vedere infatti che si sblocca magneticamente e se lo richiudiamo andrà in blocco la cover inoltre consente anche di rispondere direttamente alle chiamate visto che il telefono si è avvicinato direttamente al nostro orecchio ci prenderà la chiamata e potremo rispondere